Grazie a tutti. E io non voglio che finisca il mia lera, non è proprio giusto, perché le leggi che ha seguito Mimmo sono quelle dell'umanità, dell'accoglienza di queste meravigliose persone che sono state a viaggio, 6.000 e più migranti, anche le donne affiniane abbiamo avuto di conoscere attraverso Mimmo. Quindi il nostro pensiero va a Mimmo e la nostra solidarietà va a Mimmo. E con Antigone vorrei citare una frase di Antigone che è diciamo contro questo tipo di legalità, tra virgolette, che è contro la giustizia. Non pensavo che i due editti avessero fatto tanta forza che un mortale potesse trasverire le leggi non scritte ed incronabili degli dèi. Infatti queste non sono di oggi o di ieri, ma sempre vivono. E nessuno sa da quando appardero. Antigone, di sapere. Grazie, grazie Maria Francesca. Non andate via nella pavola, perché poi c'è un pezzo di pane e un pezzo di coppaggio. Grazie.